ciao a tutti oggi venerdì 6 luglio è la giornata mondiale del bacio siamo in centro bergamo per vedere se i bergamaschi la conoscono e se sono disposti a scambiarsi un bacio per celebrare ecco questa bella giornata all'insegna insomma dell'amore e insomma della della condivisione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti